Buongiorno a tutti, siamo da Andrea Camper. Tu sei il proprietario, dico bene? Esatto, io sono il titolare Andrea, dove prende il nome della ditta Andrea Camper. Avete inaugurato da una settimana la vostra sede nuova? Esatto. Voi dove siete ubicati esattamente? Noi siamo in un paese che si chiama Scurzo Lengo, in provincia di Asti, siamo vicinissimi all'uscita autostradale Asti Est, siamo appena neanche a 5 km e potete trovarci sicuramente nella piana dove c'è la zona industriale di questo paese. Andrea Camper nasce dalla tua esperienza, dalla tua voglia di far conoscere il veicolo ricreazionale o da una tua passione personale? Allora, premetto che noi siamo camperisti da una vita e quindi siamo stati sempre diciamo in questo mondo qui, abbiamo masticato questo mondo qui da bambini fino adesso. Nasce questa realtà 5 anni fa, siamo partiti in una piccola struttura dove abbiamo iniziato a intraprendere il servizio di noleggio, di rimessaggio e di una piccola officina. Questa sede l'avete inaugurata una settimana fa, ci dico bene? Esatto, appunto sabato scorso, il 9 di gennaio abbiamo inaugurato questa nuova struttura di 4200 metri quadri. Senti, andiamo un po' nel vivo, come vedi e come pensi di vedere i prossimi 12 mesi dal momento che hai fatto un forte investimento in questo settore? Allora, noi abbiamo fatto questo forte investimento in questo momento particolare, non è da tutti e capisco perfettamente chi non lo fa. Noi abbiamo voluto farlo per essere una controtendenza, perché crediamo che questo momento grigio di questa storia finisca, finisca presto, con l'impegno di tutti naturalmente. E noi vogliamo essere pronti, con una struttura appunto dedicata, pronti per la ripartenza, perché la ripartenza ci sarà, sarà sicuramente forte più degli altri anni e noi vogliamo farci trovare pronti. E questo è stato il motivo per fare questo investimento, questo cambiamento e questo ampliamento. Quali ostacoli più grossi hai incontrato in questa realizzazione, insomma di un cambio di sede di più di 4000 metri quadri, mi dicevi? Sì, allora, ci sono state diverse difficoltà, innanzitutto gli spazi, gli spazi essendo molto più grandi vanno gestiti meglio, perché se no si perde il tempo ad andare da una parte all'altra della struttura, quindi abbiamo dovuto sederci un timino a tavolino con delle planimetrie, vedere dove ubicare le cose, in modo che sia tutto organizzato con pochi spostamenti, perché appunto la struttura è veramente grande, forse è fin troppo grande, e quindi abbiamo dovuto ottimizzare gli spazi, in modo da avere zone concentrate, come l'officina ad esempio, abbiamo dedicato una zona di officina dove abbiamo anche il magazzino, per quanto riguarda l'officina, tutto nella stessa zona, in modo che possiamo concentrarci in un solo posto della struttura ed essere più efficienti. Come camperista, quindi lasciamo stare per un attimo, non sei Andrea Camper, ma come camperista, che cosa ti aspetti di trovare in un punto vendita come il tuo? Allora, proprio questo, diciamo la mia passione per il camper è l'essere camperista, ogni piccolo, ogni accessorio che abbiamo voluto mettere nel nostro shop, che è in fase ancora comunque di ultimazione e di ampliamento, se io vado in un negozio, cosa mi serve veramente? Perché ci sono tante cose, diciamo, che sono solo per gli occhi, ma alla fine, alla sostanza, di un camperista di cosa ha bisogno, quando io sono in campeggio, in libera oppure in un'area attrezzata, cosa ho veramente bisogno e questa è stata una scelta di tutte le varie accessori che ci sono nel nostro shop. Senti, hai parlato di un'officina, questa officina dà dei servizi di montaggio post vendita, di accessori ricambi, oppure fa anche altri tipi di interventi, riparazioni per esempio? Allora, in primis, noi siamo un'officina membra pool garage, autorizzata a rilasciare i 10 anni di garanzia per le impermeabilizzazioni del tetto, dopodiché siamo centro assistenza NDS Point, quindi tutte le problematiche che avete sui eventuali problemi sui prodotti NDS, anche se non li avete comprati da noi, noi possiamo gestire il prodotto in garanzia. Siamo installatori ufficiali appunto NDS, in più siamo installatori Mechatronic, Mave, tutto il mondo Telair, Teleco e poi comunque i vari marchi che ci sono sul mercato. Va bene, allora per intanto direi che insomma grazie del tempo dedicato, voi siete aperti tutti i giorni? Noi siamo aperti tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle 12.30 e poi dalle 14.30 alle 18.30, tranne la domenica. Perfetto, grazie ancora per il tempo dedicato. Grazie a voi e un saluto.